Ciao, sono in Irlanda, sono venuta a stare in un'altra famiglia per una specie di scambio e mi trovo molto bene, la mia classe è accogliente, mi sono fatta dei nuovi due stranieri, per esempio una ragazza tedesca e un gruppo di giapponesi, perciò sto scoprendo nuove culture, oltre che facendomi nuovi amici. Il cibo qui è diverso ma mi sta piacendo, sono cose nuove per me, la mia casa è molto pulita, la mia camera è molto grande e confortevole e la famiglia fa di uso per farmi sentire bene, sono diventata amica con il bambino piccolo della famiglia perché giochiamo al videogiochi e è tutto ok.